Venerdì 1 dicembre 2023, buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con la rassegna stampa di TRMH24. Come di consueto al mattino sfogliamo i giornali, lo facciamo a partire dalla nostra stampa nazionale che quest'oggi presenta aperture diverse su vari temi, sicuramente in primo piano, lo vediamo qui sulla prima pagina del Corriere della Sera, ancora una volta il conflitto sulla striscia di Gaza, Gaza la tregua appesa ad un filo, il titolo di apertura del Corriere, attentato a Gerusalemme, tre i morti, Hamas lo rivendica e invoca un escalation. Netanyahu intanto dice elimineremo i terroristi, Blinken chiede di proteggere i civili, rilasciati altri otto cittadini israeliani e poi la sorte degli ostaggi, questo è il focus anche del Corriere, divisi, scambiati dove sono i prigionieri, insomma questo è il tunnel, il racconto del tunnel, delle stanze trasformate in segrete, ambienti più ampi, luoghi già usati dai Mujedin ai fini bellici ma anche case comuni dove la custodia è stata affidata a un elemento di fiducia nei quartieri di Gaza City fino a Can Yunis, sono queste le prigioni degli ostaggi che vengono poi raccontati nelle pagine interne a pagina 3 e poi la fotonotizia dei soccorritori sul luogo dell'attentato a Gerusalemme e poi in taglio centrale la fotonotizia dedicata al secolo di Kissinger, il grande diplomatico morto ieri a 100 anni ovviamente statunitense, l'ex segretario di Stato americano Henry Kissinger nel suo ufficio di Washington in questo scatto bellissimo del 1957 e la sua figura è chiaramente approfondita alle pagine 12 e 13 da Massimo Gaggi e Viviana Mazza e poi sul fronte interno arretra l'inflazione, tensione sugli scioperi, parliamo di lavoro, poi Salvini, treni fermi, mai più disagi così, la strada è quella buona, l'inflazione cala, l'attuale livello dei tassi di interesse sarebbe sufficiente a riportarla in linea con l'obiettivo del 2%, il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta ha detto che la marcia verso la disinflazione è ben avviata però i tassi di interesse non possono restare così alti a lungo e insomma queste le notizie che Corriere riporta in prima pagina insieme alla sfida per il paese dei fondi del PNRR, i cambiamenti che servono e notizie che sono richiamate anche da Repubblica che però sceglie di titolare con gli interni e con la giustizia la trappola di Del Mastro, il sottosegretario fece pressione sul DAP per avere le informazioni e permettere a Donzelli di attaccare il PD in aula su cospito nordio al CSM, anche con le riforme il PM non dipenderà dal governo, Gianni Letta intanto dice il premierato riduce i poteri del colle e poi il Quirinale non firma il DDL sulla carne coltivata, serve prima l'ok dell'Unione Europea, quindi insomma tanti i temi e i tavoli aperti per quanto riguarda il fronte interno, ovviamente c'è il commento di Carlo Bonini sull'obbligo di dimettersi, parliamo ovviamente di Del Mastro, le carte che pubblichiamo oggi del procedimento a carico del sottosegretario della giustizia Andrea Del Mastro rinviato a giudizio per rivelazione di segreto di ufficio fotografano l'impostura politica di un uomo non degno di restare un solo minuto in più nell'ufficio che occupa e questa è l'analisi durissima e poi il fronte esteri, ancora una volta sulla striscia di Gaza l'attentato di Hamas a Gerusalemme una minaccia sulla tregua, liberati altri otto ostaggi, Blinken in Israele da Netanyahu e questi sono nella foto che vediamo i corpi di alcune delle vittime nell'attentato di ieri a Gerusalemme che ricordiamo è stato rivendicato da Hamas, tre morti tra cui una 24enne incinta che mettono a rischio la prosecuzione della tregua e degli scambi di ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi e poi il cartellone dopo vent'anni la sempre meglio gioventù, leggiamo nei flash di spalla su Repubblica e De Sica che dice basta con ruoli misogini, ora arriva il momento della tenerezza e poi Maldini, Milan, la mia storia non si cancella. Passiamo adesso però all'apertura della gazzetta del Mezzogiorno sul suo nazionale che apre con l'Ilva a sedio al governo, bisogna nazionalizzare sindacati e esponenti PD in coro dicono il piano di fitto è fallito, si cambi e la foto insomma dedicata a questo tema sono ore difficili chiaramente per lo stabilimento siderurgico di Taranto e poi ancora complotto degli avvocati, Bari, la procura fa appello, Filograno e Loprieno cedettero la coca li vediamo nella foto, i PM pinto a sinistra e Toscani con l'aggiunto Coccioli i 26 grammi di cocaina che è una mano ignota nascosto nell'auto di un imprenditore di Gioia del Colle devono necessariamente essere stati acquistati e consegnati da qualcuno all'esecutore materiale del complotto è per questo che la procura di Bari ha fatto appello contro l'assoluzione dell'avvocato Gaetano Filograno e del suo amico collega Nicola Loprieno sono colpevoli di detenzione e spaccio di stupefacenti insomma questa è la notizia di spalla qui su Gazzetta ci spostiamo però dalle notizie nazionali al nostro fronte locale lo facciamo con la nostra consueta carrellata delle edizioni locali della Gazzetta del Mezzogiorno partiamo da Bari, la Movida è fracassona, lo dice pure la centralina nell'Umbertino a Bari i rilevamenti confermano il superamento dei limiti insomma si parla di rumori molesti in più giorni specie nel fine settimana i livelli di inquinamento acustico sarebbero stati ampiamente superati e insomma questa è la polemica sulla Movida barese e poi lo sciopero CGL Will oggi in Piazza Libertà perché appunto dicono i diritti sono negati e ancora la cronaca, le violenze, il pestaggio al San Paolo e le minacce su TikTok, coltelli e mazze per punire l'ex sei arresti a Casa Massima e poi l'albero sarà acceso il 6 dicembre come di consueto a Bari, Babbo De Caro ed è già Natale vediamo insomma in Piazza Ferrarese questa foto del sindaco alle prese con l'apertura e l'installazione dell'albero di Natale la gazzetta nell'edizione BAT in Piazza Perenza il dolore di Andria e questa è la foto che la dice lunga insomma sul cordoglio e sulla vicinanza di tutto il comune di Andria per San Grisano in Piazza Perenza appunto il sit-in proprio per ricordare la vittima l'ennesima di femminicidio e poi in taglio centrale siamo a Trani, Pioggia e Mareggiate si mangiano la falesia, l'arma è lungo la costa di Levante intanto sbloccati i fondi in regione ci spostiamo sull'edizione di Capitanata inchiesta sul Granda Puglia per la difesa reati già prescritti per la procura Fin Sud e Sfir non hanno versato 7 milioni di ecotassa e poi le dimissioni di Porziotta Stefano Porziotta che lascia la direzione sanitaria dell'ASL perché insomma ha concordato le sue dimissioni con il direttore generale Antonio Nigri alla base della decisione esigenze di carattere personale e poi utilizzo di farmaci e prodotti di consumo i medici denunciano ostacoli burocratici il Policlinico di Foggia nessun blocco sulle urgenze solo l'invito ad evitare gli sprechi il nuovo scontro a riuniti dopo il caso di anestesisti e ispettorati del lavoro e poi ancora una volta su Gazzetta del Mezzogiorno continuiamo la nostra carrellata il nostro percorso lungo la Puglia siamo adesso alla edizione del Salento Paura Alfazzi detenuto per omicidio tenta la fuga è accaduto ieri giunto per una visita al pronto soccorso sfuggito al controllo degli agenti è stato poi bloccato dopo un'ora proprio all'interno del parcheggio dell'ospedale e poi l'operazione della Guardia di Finanza e Dogana Brindisi gringo fiuta 139 mila euro di banconote che stavano per partire alla volta dell'Albania insomma la foto è dedicata proprio a queste banconote a Lecce arriva il nuovo bando per le case popolari mentre a Ostuni misterioso incendio in una villetta questa è la cronaca e poi ancora con la cronaca abusi su due ragazzini con un punto di domanda un coppia di uomini a giudizio durante il doposcuola si sarebbero verificati gli abusi in due a giudizio per violenza sessuale siamo invece sulla Gazzetta di Taranto tributi, rate più lunghe scadenze dilatate per chi si trova in grave difficoltà parliamo di fisco il Consiglio Comunale ha dato l'ok al nuovo regolamento per la rateizzazione dei debiti ecco i requisiti e le soglie insomma tutti da approfondire nelle pagine interne e vediamo anche le file dei contribuenti dopo aver ricevuto gli accertamenti e poi adozioni più facili all'estero ma sono necessari 40 mila euro dalle famiglie tarantine accolti 20 bambini sono state 15 le richieste questi sono i dati del report annuale relativo al 2022 che indica che a provenire dall'Europa è il 36,8% dei bambini la Gazzetta del Mezzogiorno edizione di Basilicata indagato, non identificato ma tutti sanno di chi si tratta il caso di Luca Ventre pasticcio giudiziario sull'asse Italia-Uruguay i fatti risalgono al 1 gennaio 2020 il lucano Luca Ventre trovato agonizzante nell'ambasciata italiana in Uruguay nella foto lo vediamo appunto a destra l'uomo che è morto dopo poche ore in ospedale l'unico indagato è un poliziotto di lui si sa tutto fa parte del dipartimento di polizia diplomatica del ministero dell'interno uruguayano eppure l'esito di delega di indagine ha depositato dal PM circa la sua identificazione completa ha avuto appunto esito negativo e poi un altro bonus dal gas all'acqua Bardi alleggerisce le bollette dei Lucani e questa insomma è sempre una buona notizia velocemente l'apertura del Corriere del Mezzogiorno Bari nel caos voto il PD adesso prova a isolare la forgia parliamo chiaramente di politica e strategie di un centro-sinistra sempre più diviso Bavaro dice basta con l'ultimatum dei Dem e poi la storia della neonata operata al pediatrico lo vediamo in fotonotizia premature con il cuore malato così abbiamo salvato Ginevra e poi chiaramente il femminicidio di Andrea era picchiata già prima del delitto Luigi era invidioso di Enza la donna in ospedale non denunciò il marito già cinque giorni prima di essere uccisa Vincenza Grisano era stata picchiata dal marito e finita purtroppo al pronto soccorso e poi ci spostiamo su Repubblica questa è l'apertura di Repubblica Enza fu picchiata in ospedale cinque giorni prima dell'omicidio intervista al procuratore aggiunto Ciro Angelilli in una settimana 45 le denunce vediamo la foto della famiglia apparentemente felice Luigi Leonetti e la moglie Vincenza Grisano insieme in auto con i loro due bambini e poi le elezioni Totosindaco quattro nomi in campo se c'è mediazione Sale Leccese e poi ci spostiamo sull'apertura di Edicola del Sud che sceglie invece il caso dell'Exilva in agonia colpa dello Stato l'acciaieria i sindacati a Meloni futuro in bilico l'Alto Forno 2 verso lo spegnimento e intanto Emiliano attacca e poi ancora il femminicidio di Andrea le indagini che vanno avanti in attesa dell'autopsia di domani Enza il ricovero in ospedale cinque giorni prima della morte il marito al GIP dice mi tradiva e poi il progetto nel capoluogo alberi per abbattere il degrado così le aree abbandonate si trasformano in zone verdi accade a Bari due milioni per la riforestazione e in conclusione di questa nostra carrellata della stampa e delle notizie del giorno chiudiamo con le notizie economiche siamo sulla prima pagina del sole 24 ore Eurozona l'inflazione a quota 2,4% risultati da primato per le borse parliamo chiaramente di mercati e congiuntura in Italia nuova frenata dei prezzi a novembre più 0,8% dal più 1,7% di ottobre il mese scorso le borse globali sono salite dell'8,9% Milano verso i 30.000 punti e con questa notizia noi ci fermiamo l'appuntamento con la rassegna stampa è per domani mattina ma l'informazione continua con tutte le edizioni dei nostri telegiornali buona giornata grazie a tutti grazie a tutti